Ora siamo onorati di presentarvi due attuali internazionali di nascita e formazione italiane, quindi orgoglio del nostro paese. Dal Royal Ballet di Londra e dal Let National Ballet olandese, sulla coreografia di Alastair Marriott in Limerence, signore e signori alla bella danza, Mara Galeazzi e Vito Mazzeo. Grazie. 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 Mara Galeazzi e Vito Mazzeo, signore e signori.